Ciao, sono Bobby Liber e vi parlo dalla futura casa del museo LGBTQ+. Qui c'è una grandissima emozione e un'armonia costante. Questa sarebbe la settimana della consapevolezza bisessuale. E nessuno invece ce la riconosce! Il mese della storia lesbica è stato a marzo e nessuno ha detto una sola parola. Certo, alle lesbiche danno un mese a noi una settimana. Allora, non avevate un annuncio da fare? Anche per noi è inaspettato, ma al momento siamo, come si dice, una troppia. Siete davvero una troppia. Sai cos'è progressista oggi? Stare da sole. Amo la mia vita, amo la mia libertà, amo la mia indipendenza. Che tristezza. Che non voglio stare in una troppia? Io non voglio nemmeno una coppia. Bobby, ho fatto sesso con quel 65enne. Che muscoli, hai scolpito. Sì, è tipo Albus Silente che si fa di steroidi. Oddio, quello è Aaron. Quanto è sexy. Gli uomini gay sono troppo stupidi. Lo so, ma siamo stati molto furbi a farci passare per furbi. È il nostro segreto. Hai conosciuto uno? Non penso di essere il suo tipo, è un Tom Brady gay. Qual è il tuo tipo? L'idioto palestrado senza opinioni? No, in realtà preferisco quelli gracili che non la smettono mai di parlare. Scommetto che lo intimidisci come lui intimidisce te. Mi va bene tutto. A me va bene tutto e dovunque vuoi. Bene, tutto e dovunque. GIF di Michael Scott che va bene. Una GIF di The Office. Ma questo non è gay. Devi essere sincero con me. Dimmelo che ti piacciono questi idioti palestrati. Oh, guarda una rissa, ti piace? Sì. Anch'io so fare i giorni come quelli. Ti faccio vedere così, eh? Ragazzi, ma che succede? Ora, scusate. Andiamo. Buon Pride. Anche a te, buon Pride. Io vado a una festa per il Pride, ma voi due? Siete troppo vecchi per stare in piscina? Potete andare? L'agente minaccia di boicottare il museo. Non puoi dire che Lincoln era gay. Se non lo facciamo, vinceranno i terroristi eterosessuali. Ci sono anche terroristi trans. Caitlyn Jenner. Sei molto diverso da me. Sei troppo profondo. Io sono molto più easy. So fare anche quello easy, l'uomo virile. Ciao. Ciao. Ci sono io. No, dammi una mano, fratello. Ci serve una mano, fratello. Che cavolo hai? Ce la vuoi dire? Per tutta la vita sono stato fiero di essere indipendente, ma quello mi è entrato nella festa. Forse il problema è che siete entrambi passivi. Scolettiamo. Uh, scolettiamo. Il sesso gay era più divertente quando i eteros si sentivano a disagio. Oh mio Dio, vi ricordate quando c'erano i eteros? Sì, sono durati parecchi. No!